guida rapida smart tv come abilitare ai acoustic tuning la sintonizzazione acustica è un'ottima funzionalità utilizza l'acustica della stanza dove si trova il televisore per modificare automaticamente le impostazioni audio dandoti così il miglior suono possibile per utilizzare la sintonizzazione acustica i premi il pulsante delle impostazioni sul telecomando tutte le impostazioni generale servizi ai qui puoi scegliere la sintonizzazione acustica e ora puoi avviare una nuova sintonizzazione audio premere start la televisione ora ha riprodotto l'audio in base a dove si trova il telecomando nella stanza ha regolato le impostazioni audio utilizzando l'acustica nella stanza ora possiamo premere avanti e avremo la possibilità di ascoltare il suono sia con l'accordatura acustica disattivata o attivata ascoltiamo scegli il suono che preferisci e premi applica e poi ok per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito grazie per la visione